Sì, una volta stava a passo con i tempi, ormai la Costituzione si è andata a far friggere. Sì, beh sì, deve evolvere insieme ai tempi. Assolutamente sì. Però quando dicono che la prima parte della Costituzione è la Costituzione più bella del mondo, questo è verissimo. Qualche piccolo cambiamento io lo farei. Certo, la società evolve e è giusto che la Costituzione cambi. È una cosa fatta tanti anni fa, ma deve continuare a progredire. La Costituzione deve essere rispettata. Non è vera. Sì, suonore sì. No, la Costituzione è parte del tuo corpo, non c'entra niente il tempo. Ma sei ritardata. Perché? Sono convinto che la Costituzione deve andare con i tempi e non può essere bloccata. Io non credo che una Costituzione possa essere cambiata a colpi di maggioranza o comunque di un pugno ristretto di persone. Ma legge quella che ha fatto l'uomo, giusto? Non è una cosa santa, 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 non è una cosa santa. Forse cambia, perché il tempo cambia. La Costituzione è una legge fondante dello Stato e deve rimanere fondante, deve dare i principi secondo i quali si opera. Poi le leggi sono fatte apposta per adeguarsi ai tempi. E allora la popolazione... Mi parli di farlo bene, ma io non dico niente. Noi non parliamo di questo.